La nefrologia del San Donato di Arezzo ha aperto le sue porte in occasione della giornata mondiale del rene delle malattie renali che si è svolta giovedì 9 marzo. Nel corso della giornata i cittadini si sono potuti far misurare gratuitamente la pressione arteriosa ad eseguire uno stick delle urine. La giornata è stata un successone, sono arrivate oltre 70 persone e di queste ci sono persone che dovranno tornare per fare esami più approfonditi perché sono venute fuori cose interessanti. È stata quindi un'occasione importante per parlare di prevenzione ma anche per effettuare controlli perché secondo le statistiche un aretino su 10 è potenzialmente portatore di malattie renali. Sono circa 300 pazienti in dialisi nel territorio provinciale compresi coloro che la fanno da soli a domicilio. Ipertensione arteriosa, diabete, malattie metaboliche, malattie cardiache sono spesso alla base di una malattia renale. Far vedere il nostro reparto e quindi invitare la gente a venire e far capire che l'ospedale non è solo un posto dove si deve arrivare solo per gli acuti ma anche per fare dei controlli mi sembra che sia stato un ottimo insegnamento e chi è venuto l'ha recepito questo messaggio. In occasione della giornata mondiale del Rene inoltre ha fatto visita al San Donato anche il Vescovo di Arezzo Cortone e Sansepolcro Riccardo Fontana. Questa presenza qui la devo al dottor Duranti che mi ha invitato nel giorno dedicato alle malattie dei Leni ed è bello stare accanto agli operatori che con la loro scienza rendono possibile a un sacco di persone non solo di sopravvivere più a lungo ma anche di avere una condizione di vita migliore.